L'associazione Robin Hood ha sollevato una questione cruciale riguardante il futuro del collegamento con i prati di Tivo, località turistica molto apprezzata per il suo paesaggio unico. Alla luce degli ultimi sviluppi, l'associazione sottolinea l'urgenza di realizzare un collegamento più veloce e sicuro, una necessità che trascina da oltre un decennio senza concretizzarsi. Infatti il percorso è già stato identificato 15 anni fa e collega Quilano Cusciano Cerqueto con i prati di Tivo, progetto però che sembra essere rimasto solo sulla carta. Anche alla luce degli ultimi accadimenti che sono quelli relativi alle frane che ci sono state sulla strada che va a prati di Tivo, al fatto che per esempio Fanadriano non è collegata con Intermesis, c'è una frana ormai da qualche decennio che sta ferma lì, c'è un progetto che va avanti da 15 anni, sono stati nominati diversi tecnici, ogni amministrazione provinciale che cambia nomi da nuovi tecnici, che ha un tracciato con una pendenza bassissima, un'esposizione buona, non c'è bisogno di fare né gallerie né viadotti e quindi un basso costo, ci sono i fondi disponibili e non si comprende perché non si dà seguito a questa coppa. L'associazione Terramana pone l'accento sulle potenzialità del tracciato proposto che non solo migliorerebbe l'accesso autostradale ma valorizzerebbe anche le frazioni di Cusciano e Cerqueto. Quando meno questa strada consentirebbe un'alternativa, perché non è che bisogna chiudere l'altra strada, un'alternativa valida anche perché c'è il collegamento alla 24 e passerebbe da Aquilano, Cusciano e Cerqueto per poi arrivare a Praia di Tio e potrebbe anche proseguire poi per Fanatriano. Noi riteniamo che questa sia una soluzione interessante, fattibile, ci sono anche i soldi, si decide una buona volta, se farla o non farla, se si decide di farla in tempi brevi si può operare per farla.